Il stadio Italia di Sorrento sta per iniziare il settimo torneo delle sirene, torneo che l'anno scorso non ha avuto il suo percorso in quanto è stato bloccato dal Covid, si riparte quest'anno da 16 squadre suddivise in 4 gironi, sta per iniziare qui al Campo Italia il primo incontro che vedrà l'Accademia Sorrento 07 opposta alla Lazio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.